Bertolo Antonio, nato a Vedelago nel 1938, artigiano da sempre. Dopo una vita di lavoro ed esperienze lavorative, devoto ai lavori manuali, dedica ora il suo tempo alle proprie passioni artistiche. Il suo stile si può definire artigianato artistico, che trova forma espressiva nel mosaico, nella lavorazione del legno e nel ricreare, con dimensioni diverse, oggetti del passato. Nelle sue opere si possono notare alcuni dettagli ricorrenti, ricordi di infanzia, tradizioni, mobiletti in arte povera, attrezzi di un tempo, tutto in scala ridotta, disegni decorativi, marmo mosaico. Forme espressive che in qualche modo hanno attinto dal passato. Innumerevoli sono i mosaici realizzati in marmo, con tecnica mista, palladiana. Alcuni grandi opere imponenti sono arrivati a misurare fino a 10 metri di larghezza. I mobiletti portagioie con i suoi particolari da notare i piccoli dettagli sono in qualche modo le opere che Bertolo, Antonio, dedica alla donna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti